E poi la Maglia Rosa con questo ultimano treme che già avvito abbiamo usato a remo e avvito anche da 10, signori Siva di Maglia Rosa, Simona Geronza! I miei miei due sportivettini sono Angeli e Messi White, ecco di che stanno firmando un po' con i tuoi simboli di tre con Samo Geronza. Grazie a tutti, grazie a tutti!